Siamo ancora a Roma, pronto? Sì, pronto? Prego. Sì, sono Fabrizio Bartolomucci, scrittore radicale italiani. Prego. Volevo rilanciare anche su questo spazio la mia proposta di Adotta un detenuto, di cui ho già parlato sulla zona Facebook di Radio Radicale. Essenzialmente questa proposta vorrebbe permettere alle famiglie che hanno disponibilità di scegliere dei detenuti presentati su delle pagine web dal Ministero della Giustizia da tenere nella propria abitazione. Essenzialmente questo permetterebbe chiaramente un inserimento nella società di questi detenuti, ridurrebbe i costi e non avrebbe particolari inconvenienti.